Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV, occhio ai giornali che comincia come tutte le mattine alle 7 in diretta con il Santo del Giorno e lo vediamo subito. Il Santo che la Chiesa ricorda oggi è San Giuseppe da Leonese, è stato un cappuccino. Il sole sorgerà alle 7.21 e tramonterà alle 17.22. Andiamo a vedere il tempo perché oggi dalla primavera all'inverno in sole 24 ore. Sembra un viaggio, una promozione. In realtà è quello che succederà proprio nella giornata di oggi. Con questa irruzione fredda e anche neve a quote basse, un brusco calo termico nelle prossime ore, anche di 10 gradi. Ma a noi quello che interessa qui nelle Marche in particolare sono le burrasche di vento in arrivo, raffiche di oltre 70 km, 70-80 volte con punte anche di 100 km orari. Questo è trebimeteo.com, nello specifico la protezione civile delle Marche e questo è il bollettino di oggi. Nella prima parte della giornata avremo un cielo nuvoloso. Dal pomeriggio aumenteranno le nuvole cumuliformi in arrivo dal mare. Le precipitazioni dal pomeriggio avremo rovesci sparsi sulla costa ed isolati nelle zone interne. Anche il limite delle nevicate sarà in calo fino a 800 metri in serata, ma come dicevo i venti nella prima parte della giornata, quindi questa mattina, soffieranno da sud, sud occidentali di vento fresco con raffiche fino a tempesta su tutta la regione. Poi i venti saranno in rotazione dai quadranti settentrionali, quindi da sud a nord, nel pomeriggio e i venti cominceranno un po' a calare. Le temperature massime sono in lieve aumento in mattinata, poi dal pomeriggio sera brusco calo delle temperature, come abbiamo detto i venti ruoteranno nel pomeriggio, quindi ci sarà questa differenza che si sentirà proprio sulla nostra pelle con l'ingresso di aria fredda dai Balcani. Questa è la giornata di oggi. Attenzione alle possibili mareggiate in serata. Domani, la giornata di mercoledì 5, sarà caratterizzata da rovesci sparsi sul settore centro-meridionale. Ci saranno sempre queste nuvole grosse, cumuliformi, che entreranno, faranno ingresso dal mare e saranno più insistenti da Ancona verso San Benedetto del Tronto. Le temperature sono domani in marcata diminuzione, i venti ancora da nord, dai quadranti settentrionali, e avremo raffiche fino a Burrasca Forte. Ci sarà anche domani la possibilità di mareggiate. Giovedì 6, ecco, comincerà un po' a calmarsi tutta la situazione. I venti cominceranno a calare, anche se soffieranno da nord, da oriente, e saranno ancora di brezza tesa fino a Burrasca lungo la costa nella mattinata. Poi dopo, piano piano, andranno questi venti a diminuire. La rimonta dell'alta pressione determinerà un generale miglioramento nei prossimi giorni, dopo giovedì, con temperature che riprenderanno e saranno in graduale, dunque, ripresa. Queste sono le previsioni delle temperature previste per oggi dalla Protezione Civile delle Marche. Mi pare che ancora oggi, intorno alle 14, vedete, sono piuttosto elevate. Addirittura a fermo si toccheranno i 20 gradi, così come a Pesaro 17, fanno 18, insomma, saranno nella mattinata ancora fino alle 2. Poi domani, guardate un po' qual è la differenza, cambiano i venti nel pomeriggio, guardate le previsioni delle temperature per domani. Siamo a meno 4 a Monte Bove, è vero che siamo sui monti, ma comunque la differenza è notevole. A fermo si passa dai 20 di oggi ai 9, che è alla stessa ora di domani. Quindi questo per darvi un po' un'idea. Adesso andiamo invece a subito dare un'occhiata velocemente ai titoli delle notizie più importanti dal Corriere Adriatico e dal resto del Carlino. Vediamo l'apertura dell'edizione pesarese del Giornale delle Marche. che apre con un fatto, un fatto piuttosto preoccupante e che si è svolto a Pesaro. Nel tardo pomeriggio di ieri una signora, sulla Cinquantina, ha dato l'allarme alla polizia. Ha chiamato la polizia perché, dice lei, è stata seguita al San Decenzio mentre andava a riprendere la macchina. Un'azione lampo in cui un giovane, presumibilmente italiano, le ha scippato la borsa strappandogliela di dosso. A centro pagina la foto è per il maestro d'orchestra Bosso, che si è arrabbiato, giustamente. Si è arrabbiato perché? Perché a un certo punto, durante un concerto alle Muse, è squillato un telefonino. Lui si è fermato e poi a un certo punto ha detto, è un vero crimine spezzare quell'emozione come squarciare un Caravaggio. E il musicista arringa la platea. Ma novità nello staff del presidente Luca Ceriscioli, il guru del web, l'esperto di internet di Ceriscioli, prende più soldi di un assessore. Questo è l'articolo che troverete sempre sul Corriere di questa mattina. E poi la firma della Franco e Luci per accettare l'incarico di diventare assessore dei 5 Stelle all'interno di una giunta del PD guidata da Matteo Ricci. La Franco e Luci che è andata in rotta di collisione con il suo movimento, il Movimento 5 Stelle. Ricorderete, Crimi che ha subito, una volta arrivata, battuta l'agenzia, arrivata la notizia a Roma, Crimi si è subito messo a scrivere una lettera dicendo o se firmi la delega sei fuori dal Movimento. E così, ieri c'è stata questa firma. E dunque la Franco e Luci ha accettato l'incarico. Ricci spiega la sua maggioranza, oggi ci sarà la giunta e dunque la delega della Franco e Luci sarà l'innovazione tecnologica e altro. Anche qui il titolo della Carlino di Pesaro, la firma che scotta la grillina da ieri ufficialmente assessore della giunta Ricci. Il senatore Fede dice ma così è fuori dal Movimento 5 Stelle. La fotonotizia invece è per la raccolta di fondi per il Pedrotti, la rinascita del Pedrotti, lo storico auditorium che sarà restaurato e riaprirà nel 2021. Sono stati raccolti dei soldi, ha coinvolto privati, aziende, associazioni, scuole, bastavano 40 mila euro, ne sono stati donati oltre 54 mila. Dunque un successo insperato. Mentre a Monteciccardo si ragiona ancora sulla fusione con Pesaro, è arrivato intanto il primo sì da parte della regione, quindi da Ancona. Per questa unione è stata approvata questa proposta di legge. Poi un imprenditore che è stato arrestato appena sceso dall'autobus, l'uomo si è trovato di fronte carabiniere, aveva con sé hashish e la cocaina invece a casa. Si tratta di un 36enne, un commerciante di auto. Incubo virus, sono fuggito, l'Anconetano era nelle Filippine contagiato, nelle Filippine che sono state contagiate, dove c'è stato anche un morto. Lui dice sono riuscito a prendere un volo, il penultimo volo e sono partito. Ma si parla sulla cronaca del Carlino di Ancona anche del caldo record e dello smog che non dà tregua. Temperature raddoppiate rispetto alla media, niente pioggia o neve, aumentano gli sforamenti delle PM10. Poi la bella storia da Marina di Montemarciano, di questo ragazzo diciottenne che ha avuto un incidente in A14 l'anno scorso. È stato per quattro giorni in coma, tanti mesi in ospedale. Dopo questo incidente gli amici lo attendono a casa con tanto di festa, lo festeggiano. E lui dice ho capito che la vita è una cosa sacra, è una cosa importante, ne abbiamo una e bisogna tenersela stretta. Andiamo sulla cronaca di Macerata. Velocemente prima di entrare sulle pagine interne, bimbi intossicati, paura in piscina, matelica, 18 ragazzini hanno accusato malesseri al corso di nuoto, due sono finiti all'ospedale, l'ipotesi è quella di un guasto all'impianto di clorazione. Psicosi da virus, corsa al vaccino contro l'influenza, le dosi sono finite, nuove richieste, ma anche questo è l'effetto del coronavirus. Lavori promossi, i residenti via le martiri, sarà più bello, mappa dei cantieri. E allora, torniamo a parlare di questo coronavirus, perché i riflessi ci sono anche sulla nostra regione. Ovviamente abbiamo parlato anche ieri nel Tg di questa studentessa rientrata dal focolaio di Wuhan. Lei dice è andata tutto bene, si tratta di una 25enne originaria di Monte Urano, in provincia di Fermo, a 25 anni. È arrivata ieri con un Boeing KC-767A dell'aeronautica militare, adesso andrà ovviamente a pratica di mare, è già, anzi, a pratica di mare per la quarantena, starà lì una quindicina di giorni e dovrebbe insomma essere tutto a posto. Mentre il racconto che invece ha fatto questa mattina al giornale Olivero Mugnai, questo uomo con il suo cane, tra l'altro è un volto noto del porto d'Orico, soprattutto Chibam Meggiugori, ha a che fare con lui, perché lavora come agente marittimo e quindi tornerà al lavoro dal primo di aprile. È un volto noto perché sta appunto lì al porto e lui racconta questa mattina ho rischiato di rimanere bloccato in Asia, nelle Filippine, perché le compagnie aeree sono praticamente strapiene e cancellano voli. Sono riuscito a tornare in Italia giusto in tempo. A Manila era il manicomio, tutti con le mascherine che cercavano di rientrare, ma alla domanda in aeroporto facevano controlli, come erano organizzati, lui risponde così non ho visto nessun controllo sanitario, né in Turchia né a Bologna, non mi hanno misurato nemmeno la febbre, hanno delle pistole laser per prendere la temperatura, ma a me non mi ha controllato praticamente nessuno. Non sono state distribuite mascherine, nessuno parlava di accortezze da tenere, insomma nulla. Questo mi ha sorpreso perché è vero che il mio era un volo che non arrivava dalla Cina, ma essendoci molti voli cancellati i rientri potevano e possono ancora avvenire anche attraverso altre città. E lei come si è protetto in aeroporto? Lui risponde alzando la maglietta e cercando di coprirmi il volto perché le mascherine non le avevo. A Pesaro, a Urbino anzi, direttamente da Hong Kong, è arrivato questo giovane il 29 gennaio scorso, è arrivato Urbino e non sapendo se fosse stato infettato o meno dal coronavirus ha pensato di evitare contatti il più possibile con le altre persone, in attesa che appunto passassero questi 14 giorni indicati come periodo di incubazione. È arrivato da Hong Kong, che però dista quasi mille chilometri dalla città di Wuhan, quindi insomma non ci sono stati i casi di coronavirus, però lui aveva intenzione di rimanere in città per cercare lavoro a Urbino, quindi è andato prima in un albergo ma gli hanno detto di no. Poi ha chiamato i frati, i frati l'hanno aiutato, alla fine prima è andato a Pesaro, ha abitato per pochi giorni in una casa a Pesaro e adesso invece è di nuovo alla periferia di Urbino. Ha trovato un appartamento fuori Urbino in cui attualmente vive da solo, in attesa che passino questi fattidici 14 giorni e quindi insomma sta lì. Ma c'è un'altra pagina sul carlino di Pesaro di questa mattina che riguarda il coronavirus, sempre da Pesaro. BS, la fabbrica chiusa a Canton, monitoriamo il virus e i dipendenti, circa 20, gli impiegati in Cina della multinazionale, nessun problema per la Benelli invece e il gruppo Vitri. Mentre sotto parla Cristiano Varotti che è il figlio di Amerigo, il presidente della Confcommercio, che vive in Cina da tempo perché ha sposato una cinese e sta in una località a 300 chilometri dalla cosiddetta Cernobyl del coronavirus, quindi da Wuhan. E lui racconta, io sono ormai sbarrato in casa da giorni, per me l'unico problema qui è la noia. C'è meno isteria comunque qui che in Italia da voi, dice. Per otto anni è stato punto di riferimento per la regione in Cina. Manager, figlio di Amerigo Varotti come abbiamo detto, ha sposato una ragazza cinese e in questo momento vive in questa città che si chiama Engiang a 300 chilometri da Wuhan e per il consolato è un punto di riferimento importante. L'unico problema che ho è quello della noia, dice lui, perché sono chiuso in casa da ormai diversi giorni, d'altra parte per la strada non c'è nessuno, in strada controllano tutti per vedere se hanno la febbre, i cinema sono chiusi, chiusi anche i ristoranti. Qui il controllo è molto ferreo e dice dove sono io, 6 milioni di abitanti, ci sono solamente 500 contagi e non è che siamo lontanissimi dall'epicentro dell'epidemia. E questa è un po' la situazione raccontata da chi vive lì. E adesso la cronaca di Fano. Mettono a segno 20 colpi in due giorni, sono stati intercettati in auto e subito arrestati, la polizia ha scoperto nel vano posteriore di un appunto una trentina di portatili, tra computer, tra portatili e tablet che sono stati rubati dalle automobili in sosta. Rubavano per lo più nel parcheggio del Fano Center. Coca e Ashish, il pusher, viaggia sull'autobus, è un fanese di 36 anni perquisito alla fermata, subito processato, ha patteggiato 8 mesi. Il superflop della ecodomenica, la media delle polveri sottili ha quota 74. Lega e 5 Stelle chiedono a Sere di prendere atto del fallimento e a Mascarin di rassegnare le dimissioni. Gli sbalzi nel corso della giornata, l'andamento delle PM10 a seconda degli orari e si fa anche un confronto con la città di Pesaro. Beffa PM10 si impenna solo nell'ecodomenica, limiti sotto la soglia per tutta la settimana, mentre il 26 gennaio e l'altro ieri il consueto picco. Lega e Movimento 5 Stelle chiedono dimissioni di Mascarin. L'assessore, iniziativa flop per lo smog, ma è un successo la pedonalizzazione. Non si torna indietro. Fuligno dice legittimo lo stop alla Tesla, la macchina completamente elettrica. E vi spiego perché. Fuligno è l'ex comandante dei vigili di Fano che conferma la regolarità dell'ordinanza e dice che qui la questione non è per l'inquinamento, è semplicemente per la sicurezza. L'ordinanza, infatti, dice, è stata costruita non tanto sul problema dell'inquinamento quanto su quello della sicurezza. Cambiando in alcuni casi i sensi di circolazione, il blocco delle auto è stato esteso a tutte le macchine e quindi anche a quello elettrico. Come dire, è proprio una questione che riguarda la sicurezza. Nel momento in cui io cambio le strade, i sensi di marcia, non conta più lo smog, conta la sicurezza. Non può viaggiare nessuno perché altrimenti si rischiano gli incidenti. E poi sotto, invece, sempre sul resto del cardino, la pagina di Fano, verso un'estate senza divieti, al via i lavori all'Arzilla, c'è stata una riunione della Commissione Garanzia e Controllo, la vasca di prima pioggia dovrebbe risolvere i problemi di balneabilità e si è parlato anche di vendita delle reti gas. Tablet e PC, manetti, topi d'auto, si appostavano nei parcheggi dei centri commerciali, trovato un tesoretto in una botola segreta della loro Fiat Tipo. E poi, verso il Carnevale, la carica dei camperisti fa rotta su Fano. I camperisti di tutta Italia sono pronti a fare rotta su Fano per la decima edizione del Carnevale Camper. E poi, sulla pagina di Fano, sempre del resto del cardino, si parla di questo imprenditore di 36 anni che è stato arrestato dai carabinieri di Fano, aveva Ashish che portava con sé sull'autobus, ma aveva anche della cocaina in casa, nella sua abitazione anche i semi di marijuana e il kit, il classico kit del pusher. L'uomo ha patteggiato otto mesi di reclusione, mille euro di multa. Al cimitero, bagni nuovi ma mai aperti, tutta colpa della burocrazia. L'Ulivo, i lavori sono stati conclusi lo scorso maggio. Tonelli dice, faremo il possibile. Torniamo al Corriere Adriatico, sempre da Fano. Leonardo, nella città di Vitruvio, il focus sulle novità scientifiche, presentata la giornata di studi di venerdì. Un parterre di eccellenza tra docenti e tecnici. E poi sotto, il futuro delle reti del gas, resta un incognito. Un'incognita. Ieri l'audizione di Aset e AES. L'unica certezza è la scadenza dell'affidamento del servizio nel 2024. Questo digestore servirà all'intera provincia. È stato svelato il progetto della Feronia SRL per il territorio di Barchi. Un insediamento di 9 ettari in cui si produrrà anche del compost. In provincia ogni anno 38.500 tonnellate di organico. L'impianto ne lavora 40.000. Ora, si tratta di capire, sarebbe interessante capire, se questa Feronia, che appunto ormai ha presentato il progetto, si sa dove costruirlo, eccetera, eccetera, a questo punto, visto che c'è questo progetto che sta andando avanti, è ancora legittimo pensare che anche a Fanno se ne farà un altro. oppure Barchi scalza definitivamente il progetto di quello che vorrebbe realizzare Aset a Falcinetto, Bellocchi o giù di lì. Quindi a questo punto, non potendo, credo, convivere due impianti del genere a distanza di pochi chilometri, sarebbe interessante capire se a questo punto quello di Bellocchi viene messo da parte e quindi diventa obsoleto. Gestione del Museo dei Bronzi, confermata la ConfCommercio, rinnovata la convenzione iniziata nel 2012, ok anche la partecipazione agli itinerari della bellezza. Cinquecentenario di Raffaello, da Urbino nessun collegamento regionale, Fabri, consigliere del Cinque Stelle, all'attacco, assenza di rapporti con Umbria e Roma, serviva una promozione organica. Ateneo aperto, attesi migliaia di studenti da tutta Italia, da domani a venerdì si presentano le attività formative. Chiuderò la parafarmacia a Gadana, invece siamo sul Carlino, il dottor Stefano Carloni lascerà la sede attuale dopo 23 anni, purtroppo sono costretto a togliere questo servizio ai cittadini. Si salva la farmacia di Pieve di Cagna, che è una farmacia rurale, ovvero al limite dei comuni o in comuni disagiati, eccetera, eccetera. A marzo scorso il dottor Carloni aveva manifestato la preoccupazione di riuscire a tenere aperti i due servizi a causa della mancanza di popolazione. Poi felici sull'edificio del Raffaello prova di carico in tutta. La sede, l'ex dirigente dei lavori pubblici insiste, la scuola non va demolita ma solo adeguata e resa funzionale. Andiamo ancora avanti, prima però sempre da Urbino, per gli urbinati che ci seguono ogni mattina, ci sono i lavori in via Matteotti, lavori che andranno avanti fino al prossimo 4 aprile. Dalla Val Cesano siamo sempre sulla pagina di Fano, oltre 120 milioni dalla regione per l'assistenza socio-sanitaria, area vasta 1, Ceriscioli dice più risorse per risposta adeguata e fa bisogno della comunità. Poi volle vincente, Marotta in festa per coach Bertini, ha condotto le ragazze di Trento ad aggiudicarsi la Coppa Italia di A2, Mazzanti è corso ad applaudirlo. Deluso a Fossombrone, deluso dal nuovo piano salitario, fa crescere i rischi per l'ospedale, anche il Sindaco Bonci manifesterà questa mattina ad Ancona con i comitati. Ancora dai quotidiani l'impianto di Bitumi, siamo sempre a Fossombrone, questa volta dal Carlino, l'impianto Bitumi è da rivedere, la Coppa Sociale articolo 32 esprime perplessità sul progetto presentato per l'area di Ghilardino. il secolo peroso di Luigia Dormi, una vita tra sacrificio e amore, una vedova da quasi 57 anni ha avuto un'esistenza dura, il suo segreto ogni tanto il tartufo bianco sulle tagliatelle. Ha compiuto 100 anni, domenica scorsa Luigia Dormi per tutti Gigia, nata ad Urbagna il primo febbraio del 1920, ha trascorso la giovinezza nelle campagne durantine col duro lavoro dei campi, nel 1943 Luigia ha sposato Emilio Lapilli, Urbinate che aveva aperto un forno a Urbagna in piazza Padella e poi c'è tutto il racconto dal ritorno dalla guerra in Russia all'arrivo in Urbagna eccetera eccetera. Oggi l'età fa sentire un po' di acciacchi ma Luigia Gigia non ha dubbi su quale sia stato il suo lisir di lunga vita, una grattatina di tartufo bianco sulle tagliatelle ogni volta che per lei è stato possibile. Andiamo su Senigallia per una bella storia di solidarietà, di amicizia, di amore. Mattia fuori dal coma, gli amici lo festeggiano, l'ex giocatore di Marina del Marina, Marina di Montemanciano, era rimasto gravemente ferito in un incidente, in A14 e lui dice commosso quello che avete fatto va oltre l'immaginabile. mi avete trattato come un amico, come un figlio e tutto ciò mi ha dato la forza per andare avanti a continuare. Ho capito tante cose, soprattutto che la vita è una e non va sprecata ma va vissuta appieno e va tenuta stretta. Finalmente Mattia potrà tornare alla sua vita di sempre. Servizio notturno è fatta, siamo a Pesaro, fumata bianca per i vigili al termine di una follata assemblea del corpo dei vigili di Pesaro è stato raggiunto l'accordo sulle modalità di pattuglie uomini sì a tre agenti esterni con un piantone a far da filtro per quanto riguarda le urgenze a cavallo del turno tra l'1.30 e le 7.30 del mattino. Velocità, un anno di eccessi parla il comandante Gianni Galdenzi che è a capo della polizia locale di Pesaro multe più che raddoppiate. Il comandante annuncia una stretta sui cellulari alla guida. Franco e Luci ha firmato oggi la giunta e 5 Stelle noi restiamo all'opposizione ieri sera assemblea degli attivisti del movimento il facilitatore fede dice dovrà spiegare adesso ai provvibiri fusione Pesaro Monteciccardo anche la regione dal via libera l'incorporazione viene anticipata e resa possibile sin da subito ora il passaggio all'assemblea legislativa. San Decenzi un'altra donna scippata il ladro inseguito in centro dalla polizia il giovane ha gettato la borsa ma senza più soldi è il secondo caso in pochi giorni nel parcheggio per il Pedrotti raccolti oltre 54 mila euro donano anche gli alunni del Sacro Cuore la prima riserva di cielo sul tetto di Casa Sponge l'associazione si candida a diventare non fly zone vietando i voli sopra l'area collinare droga negli slip al parco ma viene assolto un giovane migrante nigeriano sotto processo per spaccio è stato ritenuto innocente perché non aveva il bilancino di precisione secondo il magistrato non poteva spacciare senza pesare la droga turni di notte assemblea della polizia anche il Carlino ne parla servono 5 agenti e si esaurisca la graduatoria poi la truffa ciao come stai ti ricordi e poi gli svuota il portafoggio portafoglio un pensionato di 83 anni svela che ieri mattina un cinquantenne gli ha spillato 70 euro portandogli parlandogli dei tempi andati dei tempi che furono è la classica scusa per abbordare gli anziani soprattutto quelli che spesso durante la giornata parlano con poca gente anzi a volte si passa dei giorni senza aprire bocca se non qualche preghiera qua e là eppure quando qualcuno si avvicina per parlare con una scusa questi anziani non riescono a dire di no e quindi cominciano gli danno fiducia parlano e non sanno non immaginano che la persona che gli sta defronte non ha intenzioni non ha intenzioni buone è un malintenzionato e l'unico suo interesse è quello di tentare di portare via qualche soldo e così è successo ieri mattina a questo 83enne che gli ha dato 70 euro e l'ho anche salutato poi mi sono reso conto solo dopo che mi aveva truffato e sono andato dai carabinieri per denunciarlo ha detto questo 83enne chiudiamo con questa storia di cui ci siamo occupati sempre in rassegna stampa dal giorno in cui è successo questa questa coppia fratello e sorella che gestiva il viscioleto di famiglia un dono del padre e della madre a un bel un bel momento qualcuno forse un vidioso sicuramente cattivo diabolico è andato lì con una motosega ha tagliato tutto questo viscioleto tutti questi 150 200 alberi creando un danno enorme perché adesso ci vorranno almeno 5 anni prima che possa ritornare in produzione un danno da 150 mila euro dicono i fratelli cardinali e hanno aperto un crowdfunding cioè una raccolta di soldi attraverso internet e le offerte stanno arrivando cercheremo anche noi di darvi qualche indicazione in più per chi vuole aiutare questi due fratelli vogliamo tornare a lavorare e a produrre le nostre bontà il vino di visciole e non solo è tardissimo mi fermo qua grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata ci vediamo stasera al telegiornale delle 20 e 30 e adesso la pubblicità e poi la Santa Messa da Loreto arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti